Bentrovati a questo nuovo appuntamento dedicato al pensiero di Rudolf Steiner. Il brano che vi propongo in questa veloce scorribbanda è incentrato sul concetto di vero io. Tale concetto, nel quadro della filosofia esoterica e spirituale steineriana, si rivela centrale per comprendere il suo pensiero sull'essere umano e sulla evoluzione della coscienza. Come sappiamo, la concezione antroposofica steineriana sviluppa una visione integrale dell'uomo come entità multidimensionale che non si esaurisce nella dimensione fisica o sensibile. Egli descrive l'uomo come costituito da vari corpi o strati. Il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e, al di là di questi, il vero io, che rappresenta l'essenza spirituale più profonda dell'individuo. L'anima, attraverso un percorso di conoscenza e purificazione, può giungere a riconoscere questo vero io e, per il suo tramite, l'intero percorso esistenziale diviene un processo di risveglio e di progressiva emancipazione dei vincoli della materia e del mondo fenomenico. Nel brano, tratto da La soglia del mondo spirituale, Steiner descrive in modo dettagliato il processo che porta l'anima a sperimentare se stessa in questo io superiore, che giace nascosto sotto gli strati più superficiali della coscienza ordinaria. Questa esperienza richiede una particolare chiaroveggenza spirituale, un'espansione della consapevolezza che va oltre la percezione sensibile e un intenso lavoro interiore che rinvigorisce le forze volitive e coscienti dell'anima. Il testo esplora i mondi spirituali che si aprono oltre il corpo fisico e descrive l'incontro dell'anima con il nulla apparente da cui può svolgere la vera essenza dell'individuo. Si tratta di un processo di grande significato esoterico che porta l'individuo a confrontarsi con le dimensioni più profonde e sottili dell'esistenza, oltre il dominio del tempo e dello spazio. Buon ascolto allora. Al termine proveremo a darvi qualche ulteriore spunto e chiave di lettura per espandere la comprensione del discorso steineriano, mettendolo a confronto con altre concezioni filosofiche. Se l'anima sperimenta se stessa nel suo corpo astrale e gli esseri viventi mentali costituiscono l'ambiente che la circonda, allora sa di essere fuori del corpo fisico e anche fuori di quello eterico. Essa sente però pure come il suo pensare, sentire e volere appartengono ad un campo ristretto del mondo, mentre secondo la sua natura originaria essa potrebbe abbracciare ancor più di quanto in quel campo le è assegnato. L'anima divenuta chiaro-veggente può dire a se stessa nel mondo spirituale. Nel mondo dei sensi sono limitata a ciò che il corpo fisico mi permette di osservare. Nel mondo elementare sono limitata dal corpo elementare. Nel mondo spirituale sono circoscritto per il fatto che mi trovo, per così dire, sopra un'isola dei mondi e che percepisco la mia esistenza spirituale soltanto fino alle sponde di essa. Al di fuori di queste sponde vi è un mondo che potrei vedere se io mi facessi strada attraverso il velo che mi viene tessuto davanti allo sguardo spirituale per opera degli esseri viventi mentali. L'anima può squarciare questo velo se continua a sviluppare sempre più la capacità della dedizione di se stessa, che già le è necessaria per la vita nel mondo elementare. A misura che le sue forze vanno crescendo, per mezzo dell'esperienza del mondo fisico sensibile, occorre che essa sempre più le intensifichi per trovarsi al riparo nei mondi supersensibili dall'indebolimento, oscuramento, perfino dall'annientamento della coscienza. Nel mondo fisico sensibile, l'anima, per poter sperimentare in sé dei pensieri, ha bisogno soltanto delle forze che, senza il suo lavoro psichico, per natura le sono assegnate. Nel mondo elementare i pensieri si smorzano, diventano come esperienze fatte in sogno, che già nel nascere sono destinate all'oblio, che, insomma, non divengono coscienti se l'anima, prima della sua entrata in quel mondo, non ha lavorato al rafforzamento della sua vita interiore. Occorre per questo che essa rinvigorisca in modo speciale la forza volitiva, perché nel mondo elementare un pensiero non è proprio semplicemente pensiero, attività interiore, vita propria. Esso deve essere trattenuto dalla volontà, perché non sfugga alla cerchia della coscienza. Nel mondo spirituale i pensieri sono esseri viventi, del tutto indipendenti, perché essi possano permanere nella coscienza, l'anima deve essere talmente rinvigorita da sviluppare da sé nella propria interiorità, quella forza che il corpo fisico le sviluppa nel mondo dei sensi, e che in quello elementare le sviluppano le simpatie e antipatie del corpo eterico. A tutto questo deve rinunziare nel mondo spirituale. In questo le esperienze del mondo materiale, del mondo elementare, non sussistono che come ricordi. Esa stessa è al di fuori di questi due mondi. Attorno a lei vi è il mondo spirituale. Questo non fa, a tutta prima, nessuna impressione sul corpo astrale. L'anima deve imparare a vivere per sé stessa dei suoi ricordi. Il contenuto della sua coscienza dapprima è soltanto il seguente. Io sono stata e sto ora dinanzi al nulla. Ma quando da esperienze si fatte dell'anima sorgono ricordi, che non sono soltanto riproduzioni di processi materiali o elementari, ma rappresentano libere esperienze mentali che quei processi hanno determinate, allora si inizia nell'anima un discorso mentale fra le memorie e il presunto nulla del mondo spirituale che la circonda. E ciò che nasce come conseguenza di questo discorso diventa mondo di rappresentazioni nella coscienza del corpo astrale. L'anima, a questo punto della sua evoluzione, ha bisogno di una forza che la renda capace di trovarsi alla sponda del mondo cui fino allora si era limitata la sua conoscenza e di sopportare l'incontro con il presunto nulla. Per la vita dell'anima questo presunto nulla è dapprima assolutamente un vero nulla. L'anima, non di meno, ha sempre in certo modo dietro di sé il mondo dei suoi ricordi. Essa riesce, come ad aggrapparsi a questi ricordi, riesce a vivere in essi. E più vive in quelli e tanto più rimigorisce le forze del corpo astrale. Con questo rafforzamento comincia però il colloquio fra la sua passata esistenza e l'entità del mondo spirituale. In questo dialogo essa impara a percepirsi come essere astrale. Con un'espressione che corrisponde alle antiche tradizioni si può dire l'anima umana sperimenta se stessa come essere astrale nella parola cosmica. Per parola cosmica si intendono qui le azioni mentali degli esseri viventi mentali che si svolgono nel mondo spirituale come dialoghi viventi di spiriti. Ma del tutto in modo che questi dialoghi degli spiriti sono per il mondo spirituale lo stesso di quello che le azioni sono per il mondo materiale. Se ormai l'anima vuol recarsi nel mondo supersensibile, allora, per propria volontà, deve cancellare i suoi ricordi del mondo fisico e di quello elementare. Essa può far ciò soltanto allorché dal dialogo degli spiriti ha acquistato la certezza che non perderà completamente la sua esistenza col distruggere in sé tutto ciò che fino ad allora le ha dato la coscienza di questa esistenza. L'anima, in realtà, deve porsi dinanzi ad un abisso spirituale e davanti a questo deve prendere la determinazione di dimenticare il suo volere, sentire e pensare. Deve rinunziare nella sua coscienza al suo passato. Prendere la determinazione che qui è necessaria equivale al procurarsi il completo sonno della coscienza per propria volontà e non per mezzo di condizioni del corpo fisico o di quello eterico. Bisogna però pensare questa determinazione in modo che essa non abbia lo scopo di ristabilire, dopo una pausa di incoscienza, la medesima coscienza di prima, ma che per virtù di essa questa coscienza si immerga realmente nell'oblio per atto di propria volontà. Bisogna riflettere che questo processo non è possibile né nel mondo fisico né in quello elementare, ma soltanto nel mondo spirituale. Nel mondo fisico è possibile l'annientamento che si presenta come morte. Nel mondo elementare non vi è nessuna morte. L'uomo, in quanto appartiene al mondo elementare, non può morire, può soltanto trasformarsi in altro essere. Nel mondo spirituale, nello stretto senso della parola, non è neppure possibile alcuna assoluta trasformazione. Perché comunque l'essere umano possa trasformarsi, il passato sperimentato si manifesta nel mondo spirituale come esistenza cosciente, per sé stante. Perché questa esistenza di ricordi possa sparire nel mondo spirituale, occorre che l'anima, di propria volontà, decida di sommergerla nell'oblio. La coscienza chiaroveggente può arrivare a questo atto di volontà se ha conquistato la forza di anima necessaria. Quando è giunta a tanto, allora dall'oblio che essa stessa ha provocato, sorge l'entità vera dell'io. L'ambiente del mondo supersensibile dà all'anima umana la conoscenza di questo vero io. Come la coscienza chiaroveggente può sperimentare se stessa nel corpo elementare e in quello eterico, così pure si può sperimentare anche nel vero io. Questo vero io non viene creato dalla chiaroveggenza, esiste per ogni anima umana nelle profondità della medesima. La coscienza chiaroveggente sperimenta soltanto scientemente ciò che per ogni anima umana è un fatto incosciente, ma inerente al suo essere. Dopo la morte fisica, l'uomo gradatamente si familiarizza con il mondo spirituale che lo circonda. In questo l'essere suo sorge dapprima con i ricordi del mondo sensibile. Benché non abbia l'appoggio del corpo fisico sensibile, egli può non di meno vivere coscientemente nel mondo spirituale, in questi ricordi, perché si incorporano in essi i corrispondenti esseri viventi mentali, in modo che i ricordi non hanno più l'esistenza di semplici ombre che è loro propria nel mondo fisico sensibile. E, a un determinato momento fra la morte e una nuova nascita, gli esseri viventi mentali del mondo spirituale circostante esercitano un'azione di tale forza da procurare, anche senza impulso volitivo, l'oblio di cui sopra si è parlato. E con questo oblio la vita si desta nel vero io. La coscienza chiaroveggente, col rafforzamento della vita dell'anima, provoca come libero atto dello spirito ciò che per l'esperienza fra la morte e la nuova nascita è, in certo modo, un avvenimento naturale. Però, durante lo sperimentare fisico sensibile, non può mai presentarsi il ricordo di vite terrestri antecedenti, se in queste vite terrestri le rappresentazioni non furono rivolte verso il mondo spirituale. Perché possa sorgere il ricordo chiaramente riconoscibile di una cosa, occorre in vero sempre che di essa cosa si sia prima già avuto conoscenza. Bisogna dunque pure acquistarsi in una vita terrestre la conoscenza di se stesso come essere spirituale, se si vuole avere diritto a pretendere che in una prossima vita terrena ci si possa ricordare di quella precedente. Ma non occorre che questa conoscenza venga acquistata con la chiaroveggenza. Nell'anima di colui che si è acquistato una conoscenza diretta del mondo spirituale per mezzo della chiaroveggenza può sorgere nelle vite terrene che fanno seguito a quella in cui egli si è acquistata questa conoscenza, il ricordo di quella vita precedente, così come nel mondo materiale si presenta il ricordo di cosa da noi stessi vissuta. A colui che penetra con intelligenza, anche senza chiaroveggenza, nella scienza dello spirito, questo ricordo si presenta in modo paragonabile al ricordo che nel mondo materiale si conserva di un avvenimento che ci è stato soltanto descritto. Veniamo ora al commento filosofico comparativo. L'idea del vero io come nucleo profondo e spirituale dell'essere umano è presente in numerose tradizioni filosofiche e spirituali. Una visione similare si ritrova, ad esempio, nel pensiero platonico e neoplatonico, a cui si rifanno direttamente o indirettamente la gran parte delle tradizioni esoteriche occidentali. Per Platone l'anima è prigioniera del corpo e delle illusioni del mondo sensibile e il suo compito è liberarsi dai vincoli materiali per riscoprire la verità delle idee che rappresentano la realtà ultima attraverso un esercizio di morte, inteso come metafora della progressiva emancipazione dai vincoli terreni, derivanti dalla corporeità e dalla sensibilità. Questo processo di liberazione e risveglio dell'anima, centrale anche nel pensiero di Steiner, passa attraverso un cammino di conoscenza superiore che va oltre i dati sensibili. Tuttavia, mentre Platone sottolinea il ruolo della dialettica e della ragione per ascendere al mondo delle idee, Steiner propone una via di pratica che include la chiaroveggenza e lo sviluppo di facoltà spirituali più sottili, intuitive, capaci di percepire direttamente il mondo sovrasensibile. Un'altra connessione filosofica rilevante che ci preme segnalare, per contrasto, è quella con il pensiero kantiano che Steiner pure conosceva bene. Kant, nella sua critica della ragion pura, definisce la conoscenza umana come limitata al mondo fenomenico, ciò che appare ai sensi, sostenendo che non si possa avere esperienza diretta del noumeno, il cosiddetto noumeno, ciò che si può pensare ma non percepire coi sensi, ovvero la realtà in sé, come dato metafisico, che si può appunto ipotizzare, pensare, ma non cogliere direttamente. Di contro Steiner, prendendo le distanze dall'impostazione kantiana, ancora prevalente nella seconda metà dell'Ottocento, ritiene che, attraverso un percorso di evoluzione interiore, l'anima possa effettivamente accedere, in termini conoscitivi diretti, a ciò che Kant definiva irraggiungibile, intangibile, ovvero il mondo delle essenze, al di là della sfera, del sensibile. Per Steiner, dunque, l'essere umano ha il potenziale di trascendere i limiti della ragione e della percezione dei dati sensibili, cui, secondo Kant, si applicano le categorie dell'intelletto nella produzione di conoscenze scientificamente certe e dimostrabili, ma non metafisicamente vere, questa è la differenza. La via proposta da Steiner consiste proprio nel fare esperienza diretta del vero io e del mondo spirituale che lo circonda. In tal senso, la filosofia di Steiner si allinea più a una prospettiva mistica o esoterica in senso neoblatonico, piuttosto che rimanere confinata nei limiti del razionalismo critico kantiano. Si tratta di una via reggia alla sfera della metafisica che Steiner riabilita in termini pratico-conoscitivi, andando oltre la prospettiva critica della ragion pura kantiana. L'evoluzione nell'anima e il processo di ricordo Il tema del ricordo e della memoria, così centrale nel testo, ha un'importanza particolare nell'evoluzione spirituale dell'anima. Nel pensiero antroposofico, l'anima, dopo la morte fisica, continua a esistere in una dimensione diversa, portando con sé i ricordi delle esperienze terrene. Questi ricordi non sono mere ombre del passato, ma, come descrive Steiner, in maniera abbastanza efficace, sono vivificati dagli esseri spirituali del mondo sovrasensibile, che li integrano e li rendono parte di un'esperienza più ampia e profonda. La memoria non è quindi solo una funzione della mente umana, ma diviene un vero e proprio strumento di collegamento tra i mondi. Tale concetto trova risonanza con la visione di Platone, per il quale conoscere significa ricordare, in greco anamnesi. Nella dottrina platonica, probabilmente di derivazione epitagorica, l'anima, prima di incarnarsi nel corpo, viveva nel mondo delle idee, dove aveva accesso alla conoscenza perfetta e assoluta, il cosiddetto mondo iperuraneo. Quando l'anima si incarna, quindi cade, nella materia, dimentica queste conoscenze, ma, attraverso l'esperienza sensibile e la riflessione filosofica, può ricordare, ovvero riscoprire le verità universali che già conosceva. In altre parole, l'apprendimento non è altro che un processo di risveglio della conoscenza innata che l'anima possiede sin dall'inizio. Questo è esemplificato nel Menone, dove Socrate dimostra uno schiavo che può arrivare a verità matematiche semplicemente risvegliando in lui ciò che già sapeva. Un altro autore cui potremmo fare riferimento è Sant'Agostino, per il quale la memoria non è solo la capacità di ricordare eventi passati, ma un fuoco dell'anima, una sorta di deposito interiore che contiene non solo immagini sensibili, ma anche idee, concetti astratti, emozioni e persino la consapevolezza di Dio. Nel libro decimo delle confessioni Agostino descrive la memoria come uno spazio vastissimo e misterioso che custodisce tutto ciò che l'uomo ha conosciuto. È attraverso la memoria che l'uomo riesce a riflettere su se stesso e a cercare Dio. Agostino sostiene che, pur essendo l'uomo capace di ricordare molte cose, il ricordo più importante è quello della presenza divina che si trova nascosta nel profondo della memoria in interiore hominis. La memoria quindi non è solo passiva ma è un attivo strumento di ricerca spirituale e conoscenza di sé essenziale per l'incontro con Dio. Il ricordo peraltro assume un significato esistenziale profondo anche nella tradizione indiana dei Vedanta. In questo contesto la memoria è legata al concetto di samsara il ciclo delle rinascite e la liberazione spirituale moksha comporta un processo di distacco dal ricordo e dalle illusioni del mondo fenomenico. Similmente Steiner introduce il concetto di oblio volontario inteso come una forma di morte spirituale necessaria affinché l'anima possa superare i vincoli del mondo fisico e abbracciare la propria vera essenza il vero io. In questo processo l'anima deve affrontare il nulla cioè una condizione di vuoto apparente che lungi dall'essere negativa diviene il terreno fertile per la rinascita del sé spirituale. Questo riferimento all'oblio e alla rinuncia della memoria passata può richiamare anche il pensiero di Meister Eckhart il teologo e mistico tedesco vissuto tra XIII e XIV secolo che vedeva nel distacco ab geschiedenheit il necessario abbandono di tutto ciò che non è Dio per poter giungere all'unione con il divino quindi una sorta di teologia negativa eliminare ogni determinazione per raggiungere il divino indeterminato quindi nullificato di contenuti specifici quindi abbracciare il divino come tutto il vero io è la parola cosmica una parte centrale del processo descritto da Steiner è l'incontro tra l'anima e la parola cosmica che corrisponde al dialogo interiore tra il ricordo delle esperienze terrene e il presunto nulla del mondo spirituale questo dialogo rappresenta per Steiner un momento cruciale di risveglio in cui l'anima dopo essersi distaccata dalle sue memorie terrene può ascoltare la parola cosmica e riconoscere la propria natura spirituale questa locuzione si richiama indubbiamente al logos della filosofia greca e cristiana inteso come la parola o ragione divina che permea l'universo nel cristianesimo il logos diventa incarnazione del divino nella figura del cristo che è la via attraverso cui l'essere umano può connettersi con dio in maniera analoga Steiner utilizza la nozione di parola cosmica per descrivere l'esperienza interiore attraverso la quale l'anima si collega al mondo spirituale e riconosce il suo vero io come parte del tutto cosmico questa visione di un universo vivente dialogante richiama anche tradizioni più antiche per esempio l'ermetismo nei testi ermetici il mondo è concepito come una manifestazione viva e parlante dello spirito divino la parola cosmica come descritta da Steiner evoca quindi un universo in cui le entità spirituali dialogano tra loro rendendo l'esperienza spirituale non solo conoscitiva ma anche creativa e vivente questo aspetto della parola cosmica offre un'immagine del mondo spirituale steineriano come un qualcosa di dinamico e interattivo in cui le entità non sono semplici simboli ma esseri viventi che comunicano e agiscono in un dialogo continuo per concludere il testo di Steiner offre una visione affascinante e complessa dell'evoluzione dell'anima proponendo un percorso che porta alla scoperta del vero io attraverso il confronto con il mondo spirituale e il superamento dei limiti del mondo fisico la sua concezione della realtà sovrasensibile si collega a diverse tradizioni filosofiche e mistiche richiamando figure come Platone Sant'Agostino e Meister Eckhart il concetto di parola cosmica e l'importanza del dialogo tra l'anima e il mondo spirituale contribuiscono a creare una visione dell'universo come luogo vivente spirituale dove l'individuo può riscoprire la sua vera essenza attraverso un percorso di conoscenza e volontà interiore spero di avervi fornito alcuni spunti di riflessione per proseguire in autonomia buone meditazioni a tutti di riflessione di riflessione di riflessione di riflessione Grazie a tutti